non c'ho più il segnaposto loro però guarda noi stavamo qui prima e loro stanno qua abbiamo oltre più che dimezzato il gatto e qui dobbiamo continuare ad andare l'acqua allora voi avete visto la vecchia installazione militare ha visto la vecchia installazione militare la vecchia casa siete passati stanno delle mura diroccate lì c'era l'unica acqua di tutta la montagna una cisterna che per perderla doveva farla dovevi farla bollire due ore faccio Manno via. Vieni cammina verso me. Vieni cammina verso me. Vieni cammina verso me.